Grazie a tutti, io comincio, sono Isabella Dallaragione, sono la Presidente della Fondazione Archeologia Arborea che si occupa da 40 anni di ricerca e conservazione delle vecchie varietà locali di piante da frutto. Quello che vorrei oggi qui in questo luogo meraviglioso sottolineare è il fatto che in realtà le piante da frutto hanno accompagnato penso da circa 10.000 anni la nostra esistenza, l'esistenza dell'agricoltura fondamentalmente e questo era quello che diceva bussato da Ravenna nel 1592, scusate ma non lo so a memoria, ma solo per dire che le piante da frutto erano sempre presenti in tutti i giardini, in tutti gli orti perché erano appunto giardini ed agricoltura, c'era unito l'utile al dilettevole e non ci sono appunto, diciamo non vè gentiluomo addirittura, per non dire dei principi che non si diletti da averne le sue possessioni qualche vago giardino piantato di vari alberi fruttiferi, chi più e chi meno. Secondo che più o meno hanno i luoghi comodi da piantarli e secondo che più o meno se ne dilettano e hanno tempo di potergli godere, quindi era un godimento in realtà, dunque era un piacere oltre che essere un bisogno perché in realtà le piante da frutto erano anche una straordinaria bellezza. Dunque, ma c'era questa, da sempre, da millenni abbiamo avuto una straordinaria varietà, una ricchezza varietale che era la forza della nostra coltivazione, della nostra agricoltura. Ogni vallata aveva le proprie piante, ogni famiglia aveva le proprie piante e ogni stagione aveva i propri frutti, quindi era una straordinaria, un mosaico incredibile di varietà. Per secoli generazioni di agricoltori hanno coltivato, selezionato, coltivato centinaia di varietà che erano le migliori varietà per ogni terreno, erano le più adatte ad ogni terreno e ad ogni situazione ed erano così connesse con la vita delle persone che in qualche modo queste varietà e queste coltivazioni erano in qualche modo diventate proprio le carte d'identità di queste comunità di agricoltori, perché c'era una connessione strettissima. Ora, chiaramente, tutto questo è stato vero fino al, diciamo, al secolo scorso, all'inizio del secolo scorso fondamentalmente, in Italia almeno. Questa agricoltura così variata, così varia, così ricca di diversità, ha cominciato invece a semplificarsi. In qualche modo diciamo che l'agricoltura è diventata quella che purtroppo abbiamo adesso. Abbiamo sentito Vanni Ficola a parlare, ahimè, di questa agricoltura. È una realtà che ha devastato il territorio, il terreno e l'ambiente. Non ho paura di dirlo perché è stata proprio una devastazione. In realtà, in parte, appunto, questa devastazione è stata anche nei confronti delle piante da frutto. Io vi parlo delle piante da frutto perché di quelle mi occupo, ma questa cosa è vera per tutte le piante coltivate. In realtà le piante da frutto, come tutte le altre piante, sono diventate proprio degli oggetti di produzione. Non c'è stata più una relazione vitale e stretta connessione con queste piante, ma sono diventate degli oggetti. Quindi questi oggetti dovevano solo produrre e devono solo produrre, non si chiede altro. A tutti i costi viene richiesta la produzione. Dunque, poche varietà hanno sostituito la straordinaria ricchezza varietale che c'era fino a qualche decennio fa. E questo chiaramente perché, ovviamente, noi avevamo la necessità, noi diciamo che il mercato aveva la necessità di semplificare la produzione e di produrre dei grandi quantitativi facilmente trasportabili e facilmente refrigerabili. Queste sono state le tre caratteristiche essenziali. Quantità, capacità di essere stoccate in frigorifero e capacità di essere vendute a grandi distanze. Questo chiaramente ha significato una estrema semplificazione di tutto quello che era, quello che adesso sentite, la biodiversità, la biodiversità. Questo è stato. Questa scomparsa totale e totale, quando dico totale è totale, perché è una varietà che scompare e scompare per sempre. In realtà questo è stato, diciamo, il cammino, ahimè, che abbiamo avuto in questi ultimi decenni. Noi di archeologia arborea per tanti anni siamo andati, abbiamo visto questa scomparsa, ce l'abbiamo avuta sotto gli occhi e in realtà, e questa scomparsa appunto era definitiva, dunque siamo in qualche modo corsi a salvare. È stata una corsa contro il tempo perché non è facile, come dire, bisogna avere pazienza, bisogna andare in giro e bisogna correre proprio a salvare le piante. E quello che abbiamo fatto era stato proprio quello di andare laddove l'agricoltura industriale non era ancora arrivata, perché lì potevamo ancora trovare delle cose interessanti e che erano anche in qualche modo relitti di un'agricoltura contadina che era, era stata abbandonata, perché poi negli anni 50 è stata abbandonata questo tipo di agricoltura, quindi l'abbiamo cominciato a andare in giro, a studiare, a studiare le fonti di informazioni e dunque poi a conservare. Questo è quello che abbiamo fatto. Come dicevo, siamo andati in giro nei luoghi dove presumibilmente ci potevano essere rimaste delle piante, non tagliate, non toccate dall'agricoltura industriale. E dunque aree marginali, per lo più aree di montagna, poderi abbandonati, sempre più poderi abbandonati, conventi, monasteri. L'Umbria è il territorio, è la regione dei monasteri. Prima dell'Unità d'Italia ci avevamo 90 abbazie benedettine, quindi abbastanza. I monasteri erano per definizione luoghi di conservazione, perché soprattutto i benedettini, che erano monaci stanziali, sono quelli che poi hanno creato il concetto dell'abbazia, in realtà stavano, coltivavano e non scambiavano tanto con l'esterno, ma quindi conservavano, erano delle situazioni di grande importanza di conservazione. Questo è il monastero delle benedettine di Norcia, che ahimè non è più così, dopo l'ultimo terremoto. Però anche situazioni strane che ci hanno dato delle fonti di informazioni e delle risorse. Anche questa è la valle di Papigno, che è vicino Terni, dove prima dell'industrializzazione dell'inizio del secolo scorso veniva coltivata una straordinaria pesca, che era i persichi di Papigno. I persichi di Papigno, noti in tutta Europa per essere le migliori pesche del centro Italia. In realtà, poi ovviamente, con l'industrializzazione che è avvenuta all'inizio del secolo scorso nella valle di Papigno, questa cultura è completamente scomparsa. Scomparsa per ovvi motivi, perché in realtà l'industrializzazione ha portato anche un grande inquinamento. Se pensate che ancora oggi questa valle, questi terreni, altro che microrganismi lì, perché questi terreni hanno ancora uno strato di inquinanti altissimo, altissimo, cioè una profondità inquinata veramente elevata. Quindi ancora oggi. Dunque, abbiamo fatto questo lungo cammino, camminando in giro per tutta l'Umbria, perché notoriamente le piante non camminano, quindi bisogna andargli incontro. Abbiamo trovato tante piante, tante piante che io ho chiamato sempre piante orfane, perché erano orfane degli agricoltori che le avevano selezionate, che le avevano coltivate per secoli. Secoli, non ho paura di dirlo, perché per esempio ci sono delle piante come i peri, che sono le piante da frutto più longeve, perché possono vivere anche 300 anni. Quindi sono piante che sono state selezionate, coltivate per secoli da agricoltori. Poi gli agricoltori se ne sono andati, perché di fatto è cambiata la vita, negli anni 50 sono state abbandonate le aziende, le piante da frutto però sono rimaste. Ma ahimè sono rimaste come testimoni muti, o almeno muti alla nostra poca sensibilità. E non parlo, scusate la nota di polemica che adesso, ora voglio far parlare le piante, voglio far comunicare le piante, le piante ci guardano. Non è esattamente così. Le piante hanno un loro mondo che ahimè noi capiamo anche poco, nonostante gli studi. Le piante però hanno un loro linguaggio, un loro linguaggio profondo, un loro linguaggio a volte misterioso. E noi quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare di ritrovare le loro parole per poter raccontare queste storie. Perché queste sono piante comunque coltivate, erano coltivate, quindi c'era questa connessione con gli agricoltori. Quindi i testi di agricoltura ovviamente che erano molto importanti, anche se la cultura rurale è una cultura orale, dunque negli testi di agricoltura passavano delle informazioni un po', diciamo, molto poche, insomma queste informazioni erano informazioni più che mai a pannaggio delle grandi aziende nobiliari più che degli agricoltori. Gli agricoltori non sapevano manco scrivere. Quindi, oppure le cattedre ambulanti di agricoltura che sono state un'altra grande fonte di informazione. Oppure, che vi dico, anche l'arte in fondo, l'arte tra il 400 e il 500, l'arte ha avuto un grande ruolo di diffusione dei simboli più che dell'illustrazione botanica. L'illustrazione botanica è venuta dopo, ma quando un Francesco Melanzio nel 1487 riproduce queste tre straordinarie ciliegie bianche, perché quelle erano le ciliegie che si coltivavano allora, quindi per lui ovviamente era un significato simbolico, ma per me che andavo cercando le varietà che venivano coltivate in quel periodo, per me è un documento straordinario, perché se un pittore grande come Francesco Melanzio le mette in un quadro, uno significa che c'erano, esistevano in quel momento, due che avevano una grande importanza simbolica e quindi che anche venivano coltivate in maniera importante. Dunque è stata un'altra grande fonte di informazione. Seguire il cammino delle piante, perché è vero che le piante non camminano, ma camminano insieme agli uomini che le avevano selezionate e che le avevano coltivate. Dunque seguire le loro tracce ha significato andare per le strade dei contadini, dei frati, dei cercatori e dei commercianti. E qui si è stata un'altra grande fonte di informazione. Ma è chiaro che la grande fonte di informazione sono stati loro, gli agricoltori, quelli che hanno effettivamente coltivato queste piante e che lo facevano per bisogno, perché avevano, come dire, come... ed erano, queste piante erano parte della loro vita, perché hanno fatto sì che queste generazioni di agricoltori avessero potuto vivere di queste piante. Dunque è stato proprio ascoltando loro, non tanto parlando, ma ascoltando loro, che abbiamo potuto raccogliere tante informazioni su questa straordinaria agrobiodiversità, che anche la nostra terra, nonostante non sia stata mai una terra frutticola, e anche la nostra terra aveva questa straordinaria diversità. Dunque, pere. Se immaginate, l'Italia è il terzo produttore mondiale di pere, siamo terzi dopo la Cina e gli Stati Uniti, i primi in Europa, coltivavamo migliaia di varietà di pere, migliaia. In realtà, qui, questa è una foto che io amo molto, perché è proprio come dire, come si è stata l'evoluzione, fino all'ultima che vedete, che è la pera francese, la pera del curato, che è arrivata alla fine del Settecento, la spadona d'inverno, diciamo. In realtà, tutte le altre pere sono vecchie, vecchissime, antiche, diciamo così, varietà. Io ho fatto il dottorato di ricerca sulla pera e ho potuto verificare, a livello di analisi genetica, che queste varietà hanno prudenzialmente almeno 1500 anni. Quindi sono varietà che sono arrivate, e sono arrivate, diciamo, fino praticamente ai giorni nostri, perché 200 anni nell'evoluzione dell'agricoltura non sono niente. 200 anni fa sono arrivate queste grandi piante, questi grandi frutti dalla Francia e hanno, come dire, soppiantato le nostre piccole pere che coltivavamo da millenni. Dunque, pere che erano le pere che si coltivavano soprattutto perché erano pere, per esempio, erano pere invernali, quindi pere molto dure, che si conservavano a lungo, ma soprattutto che si cuocevano. Ed erano pere, la pera cane, la pera volpina, la pera monteleone. Ugo, dove sei? Eccola, la pera monteleone, no? Dico a lui perché abbiamo scritto un articolo su About Umbria, perché questa era una pera che era diffusa in tutta l'Umbria del sud, sud-est, sud-ovest, scusate. Quindi una pera importantissima che ancora esiste, anche se non viene più coltivata, più conosciuta. Pera rubbia, cosiddetta, o la pera fiorentina. La pera fiorentina è una pera incredibilmente considerata tra il 500 e il 600, totalmente sconosciuta ad oggi. Ed erano pere da cuocere, pere da cuocere arrosto, pere da mettere sotto aceto. L'aceto era, come la parte più importante, era il modo di conservare più diffuso che avevamo, perché di aceto ne avevamo tanto, visto che il vino spesso andava in aceto, ma soprattutto cuocere. Cuocere il peracottaro, che adesso pare in offesa, ma era questo signore che vendeva le pere cotte. Le pere cotte erano un alimento straordinario, di grande digeribilità, di grande bontà, di grande semplicità, se ci pensate bene. E questo signore vendeva le pere cotte, le pere da passeggio. Adesso per noi, diciamo, è inimmaginabile questo tipo di alimento. Sì, adesso ci sono questa cosa dello street food. Questo era lo street food fino agli anni 50. Te la infilavano sul bastancino e tu la mangiavi. Poi le pere estive, chiaramente, la pera briaca, la moscatella, la pera leccia, eccetera, eccetera. Cioè, migliaia di varietà che noi abbiamo comunque completamente abbandonato. Come le mele. La mela è uno dei frutti più coltivati al mondo per un solo motivo, perché è facilissimo da trasportare, è la più facile da trasportare, da manipolare, quindi è diffusissima nel mondo, diciamo, tra i frutti occidentali e quello che si coltiva di più. Ma anche qui, no? Le mele, ovviamente, l'immaginario vostro è una, due, tre mele. Massimo rossa, gialla, verde. No, il massimo della fantasia. In realtà c'erano anche qui decine e decine di varietà. La mela roggia, la mela muso di bue, un'altra mela musa, che vedete, forme anche totalmente fuori dal nostro immaginario della mela. Noi ci immaginiamo la mela rotonda. Ecco, di mele rotonde ce n'erano molto poche. C'era, ecco, la mela rosona, che è molto schiacciata, o la mela conventina, che aveva un grande ruolo tra l'Umbria e le Marche, oppure la mela pera, cosiddetta, che non c'entra niente, né con il nasci, né non è un ibrido. È semplicemente chiamata mela pera perché, vedete, ha questa forma un po' allungata, tra e rugginosa. Quindi, la mela fiorentina. Cioè, tutte anche, vedete, anche dal punto di vista dell'aspetto, sono molto belle, molto diverse. O la mela del castagno. La mela del castagno la fotografo sempre con le rose, perché questa si raccoglie a luna calante di ottobre e si conserva perfettamente fino adesso, a maggio, quando arrivano le rose. Poi ricomincia il ciclo della frutta. Quindi erano, non in frigorifero, erano frutti che si conservavano a lungo e per questo anche venivano coltivati, ovviamente. Un altro frutto che noi ci siamo quasi dimenticati, stiamo tutti importando dal Nord Africa e dalla Turchia, già essiccati, sono i fichi. Noi avevamo una grande produzione di fichi. I fichi sono l'unica specie realmente mediterranea, perché tutto il resto non è mediterraneo. La mela viene dal Kazakistan, la pera viene dalla Siria, tutte le drupace vengono dalla Cina, tutti i citrus vengono dalla Cina, l'albicocca viene dall'Afghanistan, che poi è passata all'Armenia. Dunque, nessuna di queste è realmente mediterranea, solo il fico. Il fico è specie mediterranea e per questo, diciamo, nel Mediterraneo c'erano decine, decine, decine di varietà diverse. Il fico è una specie veramente importante, era una specie veramente importante, ma, scusate che sono andata troppo avanti, solo volevo dire, perché è stata abbandonata? Perché è una specie che non è refrigerabile, non è refrigerabile, quindi va raccolto perfettamente maturo, quando è perfettamente maturo non si trasporta, non si porta al mercato. Dunque, non è adatta, non è un frutto moderno, diciamo così, è un frutto che soffre del fatto che la merce deve essere distribuita anche lontano e dunque non è stato più preso in considerazione come produzione. Noi, la Puglia, la Calabria, ma la stessa Umbria, Amelia, i fichi secchi di Amelia, erano i fichi più pregiati. Beh, loro sono costretti, e vi dico, lavorano in maniera eccellente ancora, i fichi girotti, non sono più dei girotti, ma chi fa la trasformazione adesso, lavora in maniera eccellente, ma sono costretti ad acquistarli. E loro sono bravi perché li acquistano in Puglia, se no tutto il resto, i fichi essiccati che voi trovate ai supermercati sono tutti fichi come minimo della Turchia, ma proprio minimo. Quindi abbandonati anche questi, come anche le pesche, le pesche è un frutto, diciamo, aristocratico, perché è un frutto che richiede molta acqua, quindi da noi era molto, molto poco frequente. Erano molto spesso nei giardini dei signori. In campagna ce n'era ben poco, perché appunto è un frutto che dura poco anche, come vita, è una specie che ha una durata di vita abbastanza breve. Però, ecco, erano queste le pesche che si coltivavano, la pesca sanguinella, quella che avete visto prima, la pesca cotogna, quindi erano pesche tardive, non esistevano le pesche precoci. La pesca cominciava a fine estate, sempre. Tutte le varietà erano di fine estate. Ora voi di fine estate non trovate neanche più una, trovate tutte le specie più precoci in assoluto. Dunque, le susine, lo stesso che ve lo dico a fare, le susine, ora noi consumiamo praticamente tutte le susine californiane, che ovviamente sono grandi, piene d'acqua, perché richiedono molta acqua per la coltivazione, molto poco sostenibili dal punto di vista dell'agricoltura, perché richiedono anche molti apporti esterni. In realtà, quelle che erano le susine, anche la susina viene dalla Cina, però è arrivata con i romani, tramite Damasco, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quei duemila anni ha avuto il tempo di assestarsi. Però, le varietà nostre sono piccole, sono molto profumate, molto saporite, ma piccole. Quindi, anche qui, si parlava prima della cultura. La cultura è anche questa, che noi cerchiamo le cose grandi, le cose lucide, le cose, diciamo, impressionanti, no? E quindi, tutto quello che non risponde a questa immagine viene, come dire, depennato, no? Allora, è così come le ciliegie. Le ciliegie, la ciliegia bianca, che avete visto prima, introdotta e dipinta da Francesco Melanzi, in realtà, è una ciliegia che, se voi arrivate al mercato con questa ciliegia, non ve la compra nessuno, perché tutti pensano che non sia matura. In realtà, è una ciliegia dolcissima, è una ciliegia, come dico io, è una ciliegia estremamente furba, perché anche gli uccelli pensano che non sia matura e quindi non la mangiano, il che è molto importante, perché è l'unica che si salva dalle razzie degli uccelli. è una ciliegia tardiva, come la ciliegia di Ocola, cosiddetta. Cioè, sono tutte ciliegie che sono un po' fuori dall'immaginario della ciliegia, che noi ci aspettiamo, la ciliegia rossa, la durona e quant'altro. Beh, queste erano completamente diverse dalle ciliegie del nostro immaginario. Permettetemi solo di dire questa cosa sulle ciliegie acide. del ciliegio acido è il primo ciliegio arrivato dall'Oriente, dalla Cina e poi dopo è arrivato appunto dalla Siria. Anche questo, i Romani portarono come primo ciliegio in realtà queste ciliegie, le visciole, le ciliegie acide, che erano un frutto estremamente curioso per il tempo. C'è un bellissimo affresco della Villa di Livia Drusilla a Roma in cui nel giardino ideale dipinto per lei c'è un ramo straordinario di queste visciole. La visciola è uno di quei frutti che voi dite frutto selvatico. Attenzione, è un frutto che ha delle caratteristiche straordinarie. Allora, è ricchissimo di antociani dunque che sono gli antiossidanti naturali. È il frutto rosso nostro più ricco di antociani e quindi di antiossidanti e ha come unico zucchero il sorbitolo che è l'unico zucchero che possono mangiare i diabetici. Quindi avrebbe un ruolo nella nutraceutica come si ama dire adesso straordinario ma c'è un piccolo ma. è un frutto molto piccolo che va raccolto a mano dunque bisogna avere grande pazienza ma se uno ha questa pazienza in realtà ottiene un frutto di grande importanza nutritiva di grande importanza nutritiva così come le merangole cosiddette merangole voi immaginate che l'Umbria sia una regione di agrumi in realtà lo è sempre stata da tempi abbastanza antichi quando sono arrivate diciamo gli agrumi il primo agrume che è arrivato in Europa diciamo in Sicilia è stata la merangola cioè il citrus aurantium l'arancio amaro per poi andare verso la Spagna e anche da noi è arrivato Terni la zona di Terni è stata sempre molto vicina a Roma quindi i romani l'hanno diciamo gli arabi sono arrivati fino a un certo punto e l'hanno portata fino a metà Italia laddove si poteva coltivare e in effetti questo è un frutto molto presente nella nostra antica cucina le merangole venivano utilizzate da mangiare così questo è il cappon magro cosiddetto che è un alimento salato venivano arrostite e venivano un alimento povero e venivano mangiate così arrosto oppure ci si faceva la bruschetta la bruschetta con l'olio era tipica diciamo di tutta la zona del Ternano che accompagnava il succo di merangola accompagnava la bruschetta l'altro frutto che dite ma è l'Umbria l'Umbria era piena di mandorle le mandorle erano una presenza frequentissima perché non abbiamo più questo tipo di coltivazioni perché non abbiamo meccanizzato dunque la raccolta è manuale la sbucciatura è manuale dunque non è più ovviamente competitivo allora noi importiamo tutte le mandorle quasi tutte le mandorle dalla California perché loro hanno meccanizzato hanno fatto una coltivazione intensiva non vi dico a che costi anche ambientali perché non è biologica quella che viene dalla California proprio per niente quindi in realtà noi abbiamo perso tutto il nostro straordinario straordinario patrimonio varietale delle mandorle tenete conto che la mandorla il cosiddetto mandolino cioè la mandorla verde era usatissima per le insalate allora nei statuti comunali della di scusate di Todi e di Massa Martana parliamo degli statuti comunali del 1400 c'erano delle rubriche in cui si davano pene prima pecuniarie e poi se ci ritrovavano ancora anche corporali se ti trovavano a rubare i mandolini le mandorle verdi perché ovviamente se rubi la mandorla verde quella quella poi dopo il seme non viene più ma era un uso frequentissimo ancora l'ho trovata in Medio Oriente ancora le vendono ai mercati le mandorle verdi dunque ora ci sono poi anche tanti frutti che noi abbiamo completamente abbandonato le cotogne le giugiole le nespole la nespola è un frutto di grande importanza medicinale perché è un frutto molto astringente e le sorbe con cui si faceva addirittura il pane una volta questi io ogni tanto vengono i ragazzi da me ad archeologia arborea manco sanno più di che si parla proprio non lo sanno in realtà tra l'altro sono piante straordinarie bellissime totalmente totalmente indipendenti da noi perché il sorbo nulla gli si fa perché sono comunque piante a metà tra il frutteto e il bosco dunque sono piante che assolutamente potrebbero benissimo rientrare nei nostri piccoli e medi frutteti oppure il corniolo il corniolo lo stesso che è un frutto molto ricco di vitamina C ed è un frutto che è una pianta un arbusto un grande arbusto diciamo un grande arbusto tra l'altro il primo a fiorire bellissimo tra l'altro e pascolo per le api non da sottovalutare perché è il primo prima del mandorlo quindi addirittura quindi tutto questo lavoro in realtà è stato fatto tramite ovviamente la pratica dell'innesto non da seme ovviamente voi sapete che se voi seminate una varietà ottenete qualcos'altro quindi la pratica dell'innesto è una pratica che si sono inventati gli assiro babilonesi quindi è una pratica che ha circa 3.000 anni proprio per diciamo stabilire per conservare e per mantenere quello che veniva selezionato e che veniva scelto per poterlo conservare bisognava riprodurlo senza la semina quindi o per talea o per innesto le talee nei fruttiferi funzionano poco tranne che negli agrumi e nell'olivo e nel fico per il resto vanno tutti riprodotti da da innesto quindi è stato fatto questo questo lavoro di grande di grande pazienza ed è stato costituito un frutteto che ovviamente vi invito a visitare un frutteto che appunto adesso conta 600 piante che conserva questo tutto questo patrimonio ognuna di queste piante ha una storia diversa e ovviamente noi diciamo i trattamenti vengono fatti pochissimo in realtà io faccio solo due trattamenti poi per rispondere anche a Vanni perché dice giustamente in realtà io uso una volta lo uso il rame ahimè lo uso solo una volta perché il rame essendo un minerale si accumula nel terreno e quindi non è proprio salutare e poi uso contro ahimè contro la carpocapsa uso un virus che va usato però ogni ciclo della carpocapsa ma devo dire che funziona funziona molto bene ma è molto specifico perché avendoci gli insetti bottinatori dei quali io non posso fare a meno ovviamente devo utilizzare solo le cose che siano estremamente specifiche perché appunto per noi gli insetti sono come dire la parte più importante della coltivazione senza gli insetti e non parlo solo delle api ovviamente abbiamo decine di insetti che ci servono che fanno il lavoro di impollinazione quindi le osmie api solitarie l'ape legnaiola i bombi e chi più ne ha più ne metta dunque quelli sono la parte veramente importante della nostra coltivazione tutto questo lavoro ovviamente perché è stato fatto non per anche per romanticismo anche per mantenere una bellezza anche per mantenere una memoria ma soprattutto per conservare tutto questo per le generazioni future perché in qualche modo sempre a me me lo chiedono ma perché per nostalgia per romanticismo anche perché no non ci vergogniamo di essere romantici in realtà quello che dovremmo fare tutti in questo momento come fa Vanni che sta lottando per mantenere e ripristinare la complessità della flora e fauna del terreno così noi stiamo cercando nel nostro piccolo di ripristinare la complessità del soprasuolo di cui la complessità è una parola un pochino più ampia rispetto a biodiversità complessità fa parte come dire è tutto il mondo del soprasuolo dunque adesso io posso dire che tutto questo lavoro che abbiamo fatto è stato fatto per lungimiranza perché noi adesso lo sappiamo quanto è importante mantenere la biodiversità perché in qualche modo abbiamo adesso si parla molto di terreni di territori interni di aree marginali queste aree in realtà senza questa ricchezza che hanno saputo in qualche modo conservare una ricchezza del passato in realtà queste aree ahimè perderebbero completamente il loro ruolo e però abbiamo anche il discorso che questa biodiversità e questa complessità ci garantisce il futuro il nostro futuro alimentare che è totalmente dipendente da questa complessità non pensiamo di mantenerci con la quantità di poche varietà in realtà quello che ci assicura e che ci dà la sicurezza alimentare è solo la complessità dunque appunto la complessità sono questo tipo di aziende non è l'azienda monoculturale monovarietale sono le aziende che hanno tante cose diverse culture arbore culture erbace culture foraggere insieme e dunque questo è quello che ci assicura anche quello che io dico in qualche modo la 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 buona alimentazione se ne è parlato prima ne ha parlato Vanni cioè noi siamo veramente quello che mangiamo se mangiamo le schifezze siamo anche noi delle schifezze allora diciamo non 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 nascondiamoci dunque quello se noi vogliamo veramente assicurarci una buona alimentazione in realtà dobbiamo assicurarci questa diversità e soprattutto ovviamente la stagionalità ora mi rendo conto che sfondo una porta aperta sul discorso della stagionalità oggi qui a questa iniziativa però mi sento sempre di ripeterlo perché non è così diffuso questo concetto adesso dunque la salute che dipende dalla buona alimentazione da un ambiente in cui abbiamo abbiamo una buona agricoltura un'agricoltura sana un terreno sano e delle piante che ci assicurino questa questa buona alimentazione mi riferisco sempre alla FAO che nonostante sia un gigante un elefantone che prima di muoversi ci vogliono anni anche la FAO nel 2019 ha pubblicato lo stato della biodiversità mondiale e va sicuro che la situazione è drammatica drammatica perché abbiamo perso praticamente il 95% delle varietà in agricoltura è drammatica ma anche ovviamente in ambiente selvatico è lo stesso abbiamo fatto fuori ambienti interi per cui la biodiversità viene persa ma in agricoltura in particolare quindi diciamo che questo è quello che brevemente ho voluto in qualche modo buttare nelle vostre menti grazie grazie grazie